Musica Bello a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovissimo video di Devon Brothers Io sono Jagger, con me c'è Nico Beleg di GTA 4 per la prima volta sul nostro canale Oh mio Dio, sta ballando in aria, non so come ho fatto a farlo È praticamente la versione di Herox Ubriaca Oh mio Dio, basta, 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 scendi, scendi Aspetta, devo aver fatto qualcosa di sbagliato Gravity, appunto, avevo messo la gravity Oh, 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 sono morto, yeah Ok ragazzi, siamo qua su questo episodio di GTA 4 Nell'ultimo video di Battlefield ho visto i voti e GTA 4 era assolutamente il più votato Con, mi sembra, 28 voti Ah, ok, 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 non vi preoccupate per questo incidente Piccolo, piccolo, piccolo Cosa hai detto? Cosa hai detto? No, io non ti lascio andare Io non ti lascio andare Tu resti lì Tu resti lì Va, va, va Ok, continuiamo No, è la polizia adesso Ok, come ho detto prima, GTA 4 era il più votato Invece, gli altri giochi c'è I am alive e Sniper Elite V2 che sono in testa Cioè, in testa, sì Sono ugualmente con i voti Mi sembra, 8 voti I am alive e 8 voti Sniper Elite V2, sì Invece, qual'era? From Dust From Dust l'hanno cagato poche persone Quindi quello sicuramente non lo farò Invece di queste due altre serie farò o I am alive o Sniper Elite V2 Aspetterò anche un altro voto chi vincerà Ma perché non sento la macchina? Strano Non sento la macchina Dov'è il motore della macchina? Ok, questo lo sento La cosa più schifosa lo sento Cosa è sta macchina? Ok, voglio la mia macchina preferita Oh, sì Oh, sì No Cosa? Le mie macchine preferite non le sento Ah, ok Ah, che effetto sonoro Comunque Allora, qua Sono con save game completo di gioco Quindi non ho nessuna missione da fare E... Solo cazzeggerò un po' Aspetta, vediamo la mappa Cosa c'è di bello Ok, so io cosa fare So io cosa fare Telefonino Phonebook Chiamiamo qualcuno Chiamiamo, chiamiamo, chiamiamo Dai a Roman Il nostro cugino Bowling, darts, drinking, eating Mmm Dai, beviamo qualcosa Spero che C'è Accetta Accetta Ti prego, accetta L'accento russo Ok Andiamo a prendere Roman 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 Non è molto vicino No, no, sì, sì, è vicino Ok Andiamo a prendere Roman Chi se ne fotta, andiamo così Oh, sì, oh, sì, oh, sì Allora ragazzi Ehm Ho scoperto Tanto tempo fa Conoscevo un amico Che è un genio Nei gameplay Commentari di giochi E L'ho scoperto Tramite un messaggio Che mi ha chiesto Chi sei Cioè Nel senso Possiamo parlare qualche volta Eccetera E quando ho visto Era un mio vecchio amico Che ci parlavo Tanto tempo fa Eravamo anche Collaboratori In un Con dei canali Nel mio vecchio canale Xhack Non so se lo conoscete Ma Lasciate stare È un vecchissimo canale Che avevo E L'ho scoperto adesso Che era lui Nel messaggio Ed Vi consiglio di andare Nel suo canale E vedere I suoi gameplay Che sono fantastici Ragazzi Lui Mi fa ridere Parecchio E Un Un grande Comendatore di gameplay Per tutti i vari giochi Io ve lo consiglio Andate a vedere Il suo canale Magari Se vi iscrivete Boh Fate voi Se vi piace il canale E poi Era solo così È un consiglio da me Per vedere questo canale Perché è davvero Un buonissimo Commentatore Poi Nient'altro Andiamo a cercare Cioè a trovare A casa Roman Ok Ok No Faccio una cosa epica No Non ho fatto una cosa epica Ok Ok Spacchiamo tutto Ok Spacco bottiglia Amazza famiglia Ok ragazzi Siamo molto vicini Adesso Alla casa di Di Roman Andiamo a prendere Roman Dov'è Dov'è Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ciccio Vieni Grandissimo Roman È il mio cuginetto Cioè il cuginetto di Nicky 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 Bellic Nico Bellic Non Nicky Non è una ragazza Quindi Andiamo Andiamo Sì È qua vicino Scusatemi Non è male È qua vicino Ma vaffanculo Oh mio Dio Che casino Con la macchina Ok Dai Ubriachiamoci Oh mio Dio Ragazzi Se volete Posso fare anche Tutta la storia Oh Guarda questo momento Dimitri G In Starbrite Present It's me Mario Gag Passage It's me, Mario Nintendo I shouldn't get behind the wheel Tutta l... tutta l'attesa que te giram... Epico, epico, epico Allora ragazzi, stavo dicendo... Abbasso un po' il volume del gioco Stavo dicendo se volete magari... Ok, la polizia mi segue adesso perché sto guidando un motorino ubriaco completamente Sì, mi stavo chiedendo se volete la storia del gioco Io ve lo posso fare Basta che lo scrivete nei commenti Vogliamo la storia e... Posso fare qualche missione Non è che faccio tutta la storia perché l'ho già finito due giorni fa nel... Su PS3 Quindi... Se volete la storia scrivete nei commenti Noi siamo ancora ubriachi Niko Belik E il suo cugino Roman Dove che devo andare? Ah, devo portare... Roman A casa Dov'è praticamente la casa? Qua? No, non è qua, è di sopra Mamma mia Ok Meglio se... 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 Prendiamo qualche macchina Quindi... Comet Vieni qua Vieni qua Vieni, vieni Roman Ok, ok Oh mio Dio, non vedo niente Non vedo niente, sono tutto ubriaco Sì, ma io guido sempre come un boss Come un pro Ah Oh mio Dio Non vedo niente Basta con questa modalità di ubriaco Oh mio Dio Solo Herox Sa... Sa cosa sto vivendo Oh mio Dio Oh mio Dio Perché gira così la macchina Oh mio Dio Oh mio Dio La polizia ancora Ok, ok, ok Infernos Infernos Non ho mai visto un Infernos Andare così nella mappa Ok, ma perché va sempre da... Ah Ma basta Belic Nico Dai, svegliati Basta Bevi un po' di latte Dai Oh mio Dio Ho la tosse Adesso non so perché Oh Oh, oh No Polizia di merda No, no Girati 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 Oh Ok No Polizia Tu Non fare niente Ma perché giri da solo Nico Ok My car Si Sei ubriaco E come se... Your car Basta girare da solo Basta girare da solo Nico Oh mio Dio Oh mio Dio Un altro Infernos Cos'è? La giornata di Infernos oggi Ok, ok, ok Giriamo qua Oh mio Dio Che casino Che... Ok, giriamo di qua Andiamo Andiamo No, 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 no Oh mio Dio No, aspetto l'ora di... Di finire con questa macchina Con questa modalità di ubriaco Fa schifo No Gira Che qua Ubriaco Di me... Oh, ecco Ok Siamo ancora... Siamo ancora vivi E quello è l'importante Ok, ok No, no, attento la macchina Attento la macchina Oh mio Dio Si Oh mio Dio Bellissima fine questa Ok, perfetto Adesso Ok, ho preso un polizio in su da Roman Ok, epico Epico Questo Ok ragazzi Per un strano motivo Mi ha crashato GTA 4 Mi si è stoppato Tutto così Mi si è bloccato E per fortuna Il video si è salvato Quindi Allora Il video finisce qua Come avevo detto prima Se volete un po' di missioni Su GTA 4 Scrivetelo in commenti E mettete mi piace Se vi è piaciuto questo video E ci vediamo a un prossimo video Yeah Guarda la testa epica Ciao a tutti Mi Mario Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.